Bene, adesso apriamo con il futuro del teatro italiano, i giovani dell'Accademia del Dramma Antico, la sezione Junior e la sezione Primavera. Grazie a tutti. 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 Ragazzi a tutti. Grazie a tutti. Rimutabile la economicità a biliette nacide al compito nostro. Abili e tenaci, abili e tenaci, al compito nostro, abili, immutabile laerini, e tenaci, al compito nostro. Grazie. Grazie.